Finalmente la Serie D riparte dopo un mese e mezzo riservato alle oltre 100 gare di recupero che si erano accumulate. Ne restano solo poche per far riallineare tutte le squadre e si riparte con due importanti novità. Il tanto agognato protocollo che dovrebbe garantire la conclusione del torneo di quarta serie senza altri intoppi, almeno si spera, e con la rimodulazione del calendario che rispetto alla fine della stagione fissata al 16 maggio, slitta di tre settimane per chiudersi il 6 giugno. E da domenica in campo anche le due cilentane inserite nel girone I, Gelbison e Santa Maria Cilento. Il team di Vallo della Lucania nelle ultime due settimane ha già giocato per affrontare due match di recupero, entrambi pareggiati con Sant'Agata in casa e Messina fuori. Domenica, alla ripresa, nella settima giornata, sarà di scena sul campo amico del Morra per ospitare il Biancavilla, che staziona nella parte alta a due punti dal plotone di Vetta. La Gelbison, che non vince dalla prima giornata, si trova in piena zona rossa e deve centrare la vittoria. Intanto la società, con in testa il presidente Pugliesi e il DS Pascuccio, ha piazzato il primo innesto dopo l'apertura del mercato di riparazione, assicurandosi le prestazioni del difensore Raimondo Bonfini, 22 anni, arrivato dalla rotonda, dove ha iniziato la stagione. Il Santa Maria Cilento del tecnico Gianluca Esposito, dopo il buon inizio, che la vede nella parte alta della gradatoria a soli due punti dalla vetta, tornerà in campo dopo oltre 40 giorni, ma nonostante questo lungo riposo forzato, il clima in casa giallorossa è sereno. Capozzo e i soci proveranno ad allungare la serie utile sul campo del San Luca, che con altre tre squadre guida la classifica. Mister Esposito può contare su tutti gli uomini dopo aver recuperato dall'infortunio anche l'attaccante Ragosta.